Il colore è uno degli elementi che colpisce chi osserva le opere di Maurizio Tomasello, esposte nella Galleria Civica di Palazzo Moncada. In effetti il colore, scelto con cura e attenzione, assume un ruolo da protagonista nello stile dell'artista. Nella mostra personale c'era Maurizio Tomasello. Inaugurata lo scorso 10 febbraio, viene anche raccontata la sua evoluzione artistica dalle prime fasi sino alla svolta l'arte moderna. Io ho avuto la fortuna di fare sia uno stile nel figurativo e uno stile nel moderno come questo e non è facile per gli artisti trovare sempre uno stile. E visto il successo della mostra penso che è piaciuto molto. Nelle sue cere Maurizio Tomasello affronta diversi temi. Ho trattato varie tematiche dal femminicidio alla droga all'alcol ai viaggi della speranza come questo quadro che è alle mie spalle utilizzando una tecnica tutta personale che vede anche una piccola quantità di cera. I quadri comunque sono tutti poi fissati in modo che non subiscano l'entepele del calore o del caldo tipicamente siciliano. Sono opere che svelano dei messaggi e raccontano delle storie come nel caso della genitorialità. A me interessa soprattutto suscitare emozioni però visto che a volte è bello farsi spiegare dall'artista qualche pezzo del proprio quadro e in questo in particolare c'è una figura centrale che è una figura anonima rappresenta un figlio o una figlia le scale del successo che deve percorrere o che sta percorrendo e i sacrifici di questa coppia dei genitori per far sì che il proprio figlio o la propria figlia realizzi i propri sogni. Tra i 20 quadri esposti si fa riferimento persino ad un dolce tradizionale, il cannolo, ricordato anche attraverso un'installazione. La mostra che potrà essere visitata dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 sino al 21 di febbraio sarà itinerante, infatti nei prossimi mesi si sposterà in altri comuni come Piazza Armerina, Noto e Roma.